Ciao ragazzi e ragazzi, bentornati nel canale, anzi finalmente di nuovo nel canale Allora vi porto dei grattini misti, vi porto Faiscopa New, due numeri fortunati e un tutto e per tutto Allora iniziamo subito con Faiscopa e buona visione a tutti Allora iniziamo subito a grattare le carte sul tavolo Allora abbiamo 5, 6, 7, 8 Dobbiamo trovare un 8 Allora iniziamo subito Un 3 Poi abbiamo un asso No un 2 scusate Sono ciecata Abbiamo un 9 Un 4 Un 6 Troviamo qui un altro 9 Che non ci serve Qui abbiamo un asso Il 3 Il 10 Il 5 Un 7 E infine un 6 Ragazzi iniziamo subito Questo biglietto è perdente Allora 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 Proseguiamo con i numeri fortunati Ok Allora iniziamo da qui 47 Eccolo qua Presente Poi abbiamo il 41 No Non lo vedo Ok Poi abbiamo 53 Eccolo qui Adesso abbiamo Un 68 Ultima colonna 26 26 Non c'è Non lo vedo C'è il 27 No Non c'è 16 Nemmeno 73 73 Non c'è 14 Qui Poi abbiamo 78 78 No 71 71 Non lo vedo 77 Poi abbiamo 76 76 76 Non c'è 19 Qui 30 Il 30 Eccolo qua Abbiamo il 18 18 Abbiamo preso Una colonna Ok ragazzi Almeno L'abbiamo presi Questi 3 euro Allora 39 Eccolo qui Niente di fatto Perché qui Il 27 Non c'è No Non c'è Allora ragazzi Vediamo il premio Vediamo Prendiamo i nostri 3 euro Ah ecco 5 euro Ok Va bene Almeno abbiamo recuperato 2 euro su questo biglietto Allora Quindi Questo lo mettiamo da parte E proseguiamo con un altro Numeri fortunati Allora Allora 22 22 22 Non c'è Non lo vedo Abbiamo il 20 20 20 Niente 76 Eccolo qui Poi abbiamo 12 12 12 12 Non c'è 68 Ok Abbiamo preso la prima colonna Ok Andiamo avanti con il 18 Che non vedo Non c'è il 16 15 No non c'è 16 Ok Poi 45 45 Eccolo qui Andiamo avanti con il 59 Che non c'è 38 Ultimo numero 69 No no Vi dico una cosa Il 69 è il mio anno di nascita Allora E non c'è nemmeno qui 77 Eccolo qua Poi abbiamo Il 15 49 49 49 Non c'è 75 Qui potrebbe uscire almeno un 33 Così Prendevamo anche questo Ma non penso proprio infatti 34 Va bene ragazzi Allora riprendiamoci nostri 3 euro Ok Infatti 3 euro Va bene Medio di niente Allora Adesso abbiamo un tutto e per tutto Vediamo Allora Numeri vincenti 25 16 38 31 31 E 14 21 21 E 14 Ok Allora iniziamo con la prima colonna Vediamo cosa troviamo 31 Niente 29 29 Niente 37 Non ce l'abbiamo 24 Non se ne parla nemmeno Perché c'è 25 Continuiamo con il 30 30 42 No 33 Niente 13 Non ce l'abbiamo 28 No 43 No 17 17 Non è presente Ultimo numero Guarda che questo biglietto lo vedo perdente comunque 36 Infatti è perdente Allora ragazzi Anche questo biglietto è perdente Quindi abbiamo Recuperato 8 euro 5 euro da questo E 3 euro da questo Da numero fortunati E niente ragazzi Che dire Se il video vi è piaciuto Mettete un like E iscrivetevi al canale E tanti abbracci e baci E alla prossima da Meridena Ciao ciao